Unica modifica che sono andato a fare è di spingere l'Arduino più avanti per non avere cavi da saldare sotto il joystick. Quindi vi basterà saldare i pin necessari al progetto, non serve saldarli tutti e di conseguenza inserire l'Arduino negli spazi appositi. Un'altra modifica che ho effettuato è quella di integrare degli inserti M3 di metallo in tutte le parti filettate. Tramite lo strumento che avevo costruito in uno scorso video per l'inserimento degli inserti mi aiuto con una vita. La seconda modifica che sono andato a fare è quella di integrare nel joystick che funge da mouse un encoder rotativo. Questo avrà il compito di sostituire la classica rotella che troviamo in un mouse comune che ci può permettere uno zoom oppure uno scrollamento.